buongiorno a tutti sono emanuele piani castanicoltore agricoltore in comune di san godenzo in appennino quindi nella nostra montagna io rappresento un mondo che dieci anni fa 15 anni fa pensavamo fosse in via d'estinzione perché alla fine la produzione del marrone soprattutto e anche della farina dei marroni aveva avuto una contrazione in negativo avevamo dei dei produttori con un'età molto alta e un prodotto che riusciva a male diciamo a caratterizzarsi sul mercato grazie all'IGP e al lavoro svolto da castanicoltori e all'attività del consorzio il marrone è stato nuovamente riscoperto oggi abbiamo un ritorno nella castanicoltura qui diciamo in toscana comunque in provincia di Firenze dove c'è questa denominazione importante marrone Mugelli GP abbiamo un ritorno importante di giovani il prezzo diciamo del prodotto si è adeguato agli standard di oggi è una cultura che ci caratterizza molto caratterizza molto il paesaggio è una cultura dove la mano buona dell'uomo si vede è una cultura che identifica fortemente il nostro il nostro territorio tant'è che anche all'interno dell'associazione della foresta modello dove siamo soci cerchiamo di portare avanti appunto le finalità di questa coltivazione e siamo molto fiduciosi che anche avversità come il cinipide del castagno o altre avversità legate a cambiamenti climatici ci vedranno alla fine o comunque vedranno le nostre piante alla fine sopravvivere e continuare a darci questo fantastico e meraviglioso frutto